Ricordiamo all'utenza che l'utilizzo della mascherina è obbligatorio in tutti gli spazi comuni all'infuori del piano vasca e durante gli allenamenti in palestra che devono essere eseguiti alla distanza di due metri. Nulla può essere lasciato fuori dagli armadietti. Il personale provvederà a ritirare ogni oggetto lasciato all'esterno e a sanificare la zona.